Addetta ai servizi di pulizia del comune era solita passare il badge in corrispondenza dei orari di inizio e fine servizio per poi lasciare l'edificio ed andare a sbrigare le proprie faccende personali. Nuovo caso di assenteismo questa volta a Baucina in provincia di Palermo. A finire agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione in servizio è una donna di 54 anni. Denunciati per gli stessi reati anche il marito e i figli. I carabinieri infatti hanno accertato come la donna in numerose occasioni non si sarebbe recata affatto al municipio lasciando che andassero al suo posto il coniuge o uno dei due figli i quali nella circostanza provvedevano fraudolentemente alla registrazione della sua presenza mediante la timbratura del cartellino. Le indagini hanno permesso di accertare inoltre che i familiari della 54enne in alcune circostanze accedevano all'interno degli uffici in orario di chiusura ed in pochi minuti effettuavano superficiali pulizie dello stabile come svuotare i cestini e spazzare l'androne del palazzo municipale. Il GIP del Tribunale di Termini Merese dopo la convalida dell'arresto ha disposto nei confronti dell'indagata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Baucina.